Ciao a tutti a Vittorio, ha parlato Paul Pogba in una intervista esclusiva e fatemi dire subito una cosa, non mi piace, non mi piace quello che ha fatto Paul Pogba, perché che cosa ha fatto? Beh, forse voi non avete visto, ma allo stesso tempo Paul Pogba ha rilasciato un'intervista esclusiva alla Gazzetta dello Sport e ci sta benissimo, però poi ha rilasciato sempre lo stesso giorno, intervista esclusiva all'Equipe e intervista esclusiva a Sky Sport UK, quindi una esclusiva in Italia, una in Francia e una in Inghilterra. Da ex del Messina, è una cosa che non mi piace, perché? Perché quando fai un'esclusiva, è esclusiva tua, non puoi concedere l'esclusiva allo stesso giorno a tre persone differenti, tre giornali differenti, anche perché che cosa succede? Se la Gazzetta fa l'intervista a Pogba, che è un giocatore internazionale, ovviamente questa intervista viene ripresa anche all'estero. Avendo rilasciato le interviste alla Gazzetta, all'Equipe, a Sky, beh, la Gazzetta non avrà la stessa pubblicità che avrebbe avuto se l'intervista fosse veramente esclusiva. In realtà non è esclusiva, ha parlato a tre siti differenti e quindi non è una vera esclusiva e quindi Pogba non è stato correttissimo. In più, secondo me, ha sbagliato nel senso che, ok, se proprio vuoi fare tre esclusive differenti nei tre paesi tuoi, diciamo, perché Pogba è francese, quindi l'Equipe ha giocato tanto in Italia e ha giocato anche in Inghilterra, nel Manchester United. Quindi ci sa che fai tre interviste in tre paesi differenti, però potevi, per esempio, nell'Equipe parlare della nazionale francese, del tuo futuro nella nazionale francese, in Italia parlare del tuo futuro alla Juventus, in Inghilterra parlare di un possibile ritorno in Premier League, nel Manchester United, eccetera. Invece Pogba, in tutte queste tre interviste, ha detto esattamente le stesse cose. E allora mi chiedo, perché hai fatto una cosa del genere? Bastava che qualcuno prendesse e traducesse l'intervista alla Gazzetta del Sport in francese, in inglese, eccetera. E quindi, già qua, non mi piace. Ma Pogba ha parlato, ovviamente, della sua squalifica, dei suoi piani per il ritorno in campo. Ha detto che, secondo lui, la squalifica è stata eccessiva, che lui ha sbagliato, si è preso la responsabilità, ma non l'ha fatto per imbrogliare, l'ha fatto per negligenza. E quindi si prende la responsabilità, perché è un professionista e dovrebbe stare più attento. È anche vero una cosa, che purtroppo il mondo del doping non è omogeneo, nel senso che la sostanza che ha preso Pogba in America era lecita, in Italia è doping. Ci sono sostanze che nel ciclismo sono considerate sostanze dopante e nel calcio vanno bene, o nel tennis. Ci sono sostanze che in Francia puoi prendere, in Italia no. Ci sono sostanze che puoi avere l'autorizzazione in Italia da prendere e in Francia questa autorizzazione non vale. Per cui vedete che dipende anche dove hai preso la sostanza, chi te l'ha data. In America, quell'integratore era legale e quindi il preparatore atletico che gli l'ha data a Pogba, sostanzialmente ha sbagliato, però essendo lui americano pensava questo da noi è valido e quindi pensava fosse valido anche in Europa. Però diciamo che la sentenza è stata eccessiva per Pogba, uno stop troppo lungo per un giocatore che sostanzialmente aveva sì imbrogliato, tra virgolette, ma c'erano tutte le giustificazioni nel caso. Il fatto che la sentenza sia stata ridotta restituisce un po' di giustizia a Pogba. Pogba ha ovviamente parlato di questi anni terribili, ha detto che ha pensato al ritiro, che ha riflettuto molto su se stesso e ha parlato del suo futuro. Dice io attualmente sono un giocatore della Juventus, voglio giocare della Juventus, sono anche disposto a ridurmi l'ingaggio, il contratto, per restare alla Juve. È anche vero che però nei giorni scorsi avevamo letto come la Juve invece stesse già lavorando per rescindere il contratto con Pogba. Pogba che obiettivamente è stato un investimento disastroso per i bianconeri perché prima era sempre infortunato, poi squalificato per doping, praticamente la Juve lo ha pagato per niente. E sembra che gli avvocati della Juve stiano trattando questa risoluzione del contratto. Dopo le dichiarazioni di Pogba che, aperta tra parentesi, sembra che la Juventus non avesse autorizzato questa tripla intervista e quindi i bianconeri sono anche irritati perché hanno detto di no a questa intervista in questo momento e Pogba l'ha fatta comunque, quindi i rapporti già non erano fantastici, adesso sono ulteriormente peggiorati e la Juventus stava provando a trovare un accordo con il giocatore. Dopo le dichiarazioni di oggi la Juventus sta pensando addirittura a terminare il contratto con il francese per giusta causa, visto la squalifica per doping. Vedremo come andrà avanti questa trattativa. Pogba invece voleva recuperare il rapporto, tornare a giocare con la Juve e dimostrare di essere ancora un giocatore da Juve. Ha detto che è maturato, che è più serio, che sa che non ha molti anni ancora nel mondo del calcio ma è convinto di poter dire la sua. La Juventus dall'altra parte invece non sembra convinta di tutto ciò. E quindi cosa potrebbe succedere? Beh, Pogba a gennaio potrà riprendersi ad allenare in gruppo e a marzo a giocare. Bisogna vedere se lo farà a Torino con la Juventus o da un'altra parte. Ha ricevuto offerte dall'Arabia Saudita ma lui si sente ancora in grado di fare la differenza in Europa. Vedremo se a gennaio, se la Juve non risciderà al contratto, se a gennaio arriverà qualche offerta. Io credo che la Juventus è disponibile ad ascoltare qualsiasi offerta, bisogna vedere il calciatore che cosa vuole fare. È anche chiaro che nella Juventus adesso Pogba parte dietro. Non so se Tiago Motto è disposto a dare una chance a un giocatore che negli ultimi tre anni non ha praticamente giocato e quindi è una soluzione difficile e complicata. Io non credo che Pogba resterà alla Juve. Credo che la Juve abbia intenzione di voltare pagina sia o con l'accordo col calciatore o senza la Juventus. Ha intenzione di chiudere il rapporto con Pogba e il francese deve trovare un'altra sistemazione. Non è facile, potrebbe tornare in Premier League perché Pogba in Inghilterra è ancora stimato. Certo, dopo tanti anni di stop bisogna vedere la condizione fisica di Pogba che già prima della squalifica ha avuto tantissimi problemi a giocare. Carriera finita? Ma secondo me ad alto livello sì, è difficilissimo per un giocatore che ha avuto uno storico di infortuni così importanti come Pogba tornare superati 30 a giocare a un certo livello. Io credo che purtroppo questa vicenda abbia chiuso in anticipo la carriera di Pogba che potrebbe trovare secondo me spazio nell'MLS. Ecco, l'America potrebbe essere la soluzione migliore per il francese che non credo troverà pretendenti in Europa. Anche perché io credo che Pogba ambisca una squadra che come minimo lotti per la Champions League. Io non credo che andrebbe, che ne so, un muzza tanto per fare un nome. Vorrebbe una squadra da primi quattro posti, non solo in Italia ma in qualsiasi club europeo. Io non credo che in Europa un club da primi quattro posti è interessato a Pogba e quindi l'MLS potrebbe essere la soluzione migliore per il francese. È una situazione da monitorare perché, ripeto, la Juve non è contenta di questa intervista. La Juve sta già lavorando per trovare l'accordo, accordo che non si è trovato anche perché la volontà del francese è stata dichiarata, vuole riconquistarsi il posto da Juventus. Io credo sia impossibile, però nel calcio non si sa mai, visti anche gli infortuni in casa Juventus. Questo potrebbe aprire uno spiraio per Pogba a gennaio. Non lo so, non credo, però voi che ne dite di Pogba alla Juve? Scrivetelo nel menti qua sotto e mi raccomando, se vi è piaciuto questo video mettete mi piace. Grazie.